Salve sono MonkeySimon e la 19.10 di Fortnite è finalmente arrivata e già dalle sue prime ore ha iniziato a far discutere la community Ancor prima che i server venissero riaperti Da una parte questo aggiornamento è estremamente soddisfacente perché c'è il ritorno dei pinnacoli che è la città più attesa da parte di tutta quanta la community O quasi, comunque sia, è stata molto discussa E dall'altra ci sono degli aspetti molto carenti come quello delle skin che ne sono state liccate solamente tre di cui una collaborazione E si tratta di un altro personaggio della serie di Arkane di cui io non so presso che niente quindi non mi esprimerò Semplicemente esteticamente non mi piace Parliamo però della novità più grande di quella che si è discussa da settimane Praticamente era quando è iniziata la stagione e da poco prima che arrivasse proprio questa patch Pinnacoli pendenti, città storica di cui abbiamo anche parlato nei precedenti video Che adesso è addirittura pubblicizzata e spammata nella lobby Sono sicuro al 100% che in queste ore, pure mentre sto a parlare adesso perché sono già stati riaperti i server Cioè si staranno a riversare centinaia e centinaia di persone per il lobby E sarà un casino per tutte quelle console, ma pure per i PC Dove ci saranno drop di FPS a rotta di collo, a cartuccera E comunque un minuto di silenzio per tutte quelle persone che fino a 20 secondi fa, prima dell'arrivo della patch Ancora dubitavano del fatto che Pinnacoli sarebbe arrivata Nonostante ci fosse anche la schermata di caricamento nel pass battaglia Che non lasciava dubbi, addirittura coriaccio Qualcuno addirittura ha voluto dubitare, dicendo di aver visto i leak Che sotto la neve non c'era niente e grazie Non è che ti mettono la città sommersa veramente dalla neve Sarebbe uno spreco di memoria e sarebbe anche pressoché inutile Perché tanto la collina di neve che c'era prima Era semplicemente terra dipinta di bianco Per darti l'impressione che c'è fosse la valanga a ricoprire la città Allora a sto punto dubitamo del fatto che sotto l'isola c'è sta l'isola del capitolo 2 Perché se metti la telecamera sotto la mappa c'è il grigio, oh mio dio E rimanendo sempre in tema di mappa e di scioglimento della neve E quindi sempre di pinnacoli Lì di fianco è stato anche rinvenuto sotto i ghiacciai Il teschio del cactus che è rimasto lì Proprio come il braccio del mega dopo l'evento della stagione 9 E tutti questi oggetti fanno pensare sempre di più Che ci troviamo dal lato della mappa del capitolo 1 A livello di gameplay ci sono pure lì delle novità Molte novità Ad esempio c'è stato purtroppo un ennesimo nerf per l'MK7 Che adesso fa molti meno danni rispetto a prima Così come è stato buffato il ranger Il che è una buona notizia che sarebbe l'altro fucile d'assalto Mentre per la mappa sono stati aggiunti dei nuovi consumabili Che quindi dovrebbero ricaricare salute e scudo Come ad esempio le bacche che si troveranno nei cespugli E c'è il 30% di possibilità che sponino Queste bacche saranno anche utilizzate per poter addomesticare In un qualche modo I dinosauri che sono stati visti sin dal trailer E che sono disponibili da questa patch Però io ancora non ho ben capito Quale sarà il funzionamento di questi animali Se saranno dei mezzi di trasporto Se saranno degli alleati Se uccideranno i giocatori Se che ne so Se gli dai da mangiare e non ti attaccano Non ne ho idea Dovrò andare a vedere in game E oltre a queste bacche Questi mirtilli che crescono nei cespugli C'è anche la pizza Finalmente Dopo tre capitoli hanno finalmente messo la pizza E spero che metteranno anche gli hamburger del duetburger E a quanto pare L'arrivo dell'ordine immaginario con le grotte Quindi probabilmente anche con gli OI Elite Che sono stati liccati sin dall'inizio del capitolo Erano previsti per questa patch Ma sono stati fatti slittare direttamente alla prossima Magari in origine mesi fa Erano previsti per questa patch Ma poi dopo sono stati fatti spostare E ancora nei file sono rimaste tracce di questa loro presenza in questa patch Ma appunto secondo me era già da tempo che era stato pianificato il loro spostamento Quindi molto probabilmente queste cave Questi canyon Queste grotte Queste simil grotte del capitolo 2 Le vedremo direttamente tra dieci giorni E sono stati pure aggiunti dei nuovi dialoghi con gli NPC Quindi con determinate skin Se andrete a parlare con gli NPC presenti nella mappa Ci saranno dei dialoghi bonus aggiuntivi Tipo ad esempio con la Sloan Se vai a parlare con la gente Jones Sono stati aggiunti anche dei dialoghi speciali Con la skin di fondazione Che si sbloccherà relativamente a breve Tra qualche giorno Così come è stata trovata anche una nuova traccia audio Dello scienziato Che sarà tranquillamente riascoltabile Nell'accampamento Nell'avamposto numero 3 dei 7 Grazie al cielo Inoltre sarà disponibile gratuitamente Almeno da quello che ho capito La musica della lobby default Quella che c'era fino alla stagione scorsa Se non si selezionava nessuna musica della lobby Quindi quella che c'era Quella martellante Dalla stagione 3 del capitolo 1 Che a una certa io non la sopportavo Chiedevo a gran voce che a ogni stagione cambiasse E non è più cambiata per due capitoli interi Quindi si dai regà Aspettamose pure quella che c'è attualmente In futuro come musica della lobby vera e propria Ma prima di fare delle considerazioni finali Su questa patch Perché ci sono un po' di cose da dire Parliamo dell'ultimissima cosa Che riguarda una collaborazione a livello puramente musicale Cioè quella con la cantante Tons and I Quella che canta Dance Monkey Simon Per cui già c'era la traccia all'interno della radio ad esempio E a quanto pare c'è una musica della lobby Che non è quella Ma vabbè comunque sia Ennesima collaborazione con un artista Con un cantante all'interno dei Fortnite Agevolata di più Perché già erano stati presi i diritti Per una canzone all'interno della radio Anzi forse più di una Però non è stato trovato nient'altro Recorrelato all'interno della patch Quindi credo che si tratti solamente di questo Per la collaborazione Quindi nemmeno un concerto A meno che non ci siano altri oggetti Criptati all'interno della patch E lì allora dovremo aspettare Che vengano criptati e decriptati Anzi dai leaguer A proposito di file criptati E di musica Prima che me scordo L'emote to knock to knock Di cui parlammo qualche tempo fa Qualche giorno fa Nella sezione community di questo canale È stata rimossa È stata scartata Nonostante sia stata trovata di recente nei file Nonostante fosse stata introdotta Nei file di gioco Con la scorsa patch E non sappiamo il motivo Per il quale sia stata rimossa Si dice per una pessima condotta giudiziaria Dell'artista Del cantante indiano Che è stato arrestato nel 2018 Per due anni Però mi pare strano Perché non credo che questa emote Sia stata introdotta all'interno dei file di gioco Da così tanto tempo Ed è stata trovata soltanto ora Anche perché se ci pensate È molto inerente con la stagione attualmente in corso Visto che nel pass battaglia C'è Shanta Che è una skin a cui è stata data molta importanza Con tutti quanti gli stili I pezzi degli stili da sbloccare Con i collezionabili per la mappa Quindi secondo me È stata rimossa temporaneamente È stato detto che è stata rimossa Perché forse l'hanno decriptata troppo in fretta E non era stato previsto Che un emote del genere venisse decriptata Con così largo anticipo Mia teoria ovviamente Apparentemente questa faccia Sembrerebbe essere deludente Per il numero di contenuti Per una certa fetta di utenti Poi io escludo tutte quante le cose Per la creativa Perché non ne faccio grande uso Ma sono state aggiunte anche un po' di cose Molto tecniche per la creativa C'è stanno però delle cose da dire È vero che non ci stanno tantissimi contenuti A livello numerico Ma non è detto che non ci siano dei contenuti criptati Che potremo vedere nei prossimi giorni E che potrebbero aggiungersi Soprattutto al numero delle skin Che sono veramente ma veramente poche Poi ce n'è una collab Che sicuramente piacerà a mezzo mondo Aggiungo pure che è stato reintrodotto Il lanciagranate Classico Non quindi quello a impulsi Lo dico adesso Perché l'ho letto in questo preciso momento Che sto registrando Con una modifica Cioè che le bombe O meglio le granate Esploderanno dopo il primo rimbalzo E sarà molto più preciso Ma comunque sia Dicevo che La scorsa faccia È vero Avrà lasciato il gioco Senza aggiornamenti Per cinque settimane Però in queste cinque settimane Non è che non c'è stato niente Like stagione 1 Del capitolo 2 Anche perché Molti contenuti Sono stati rilasciati Nel corso delle settimane Quindi Erano presenti Nei file di gioco Con l'aggiunta Dell'ultima patch Ma sono stati sbloccati A ogni tot giorni Come ad esempio Tornado Le nuove bombole Quelle che danno lo scudo L'aggiunta E poi dopo La rimozione Dell'aggiornamento natalizio Con i contenuti di Natale E tanti hotfix Che hanno avuto a che vedere Con il bilanciamento del gioco Una cosa su cui sicuramente concordo È la pochezza delle skin A livello numerico Ce ne sono state veramente Ma veramente poche Sia prima che dopo Però A livello puramente di contenuti Per quanto riguarda il gameplay Ma pure per quanto riguarda La creativa È stata aggiunta un sacco di roba È stata rilasciata Pian piano E adesso Non è stato proprio aggiunto Il mondo A livello contenutistico Ma ci sono comunque Cose molto importanti Tenendo presente che Tra dieci giorni Ci sarà un'altra patch E non ci saranno Altre cinque settimane Che ci separano Dal prossimo aggiornamento Quindi per quanto riguarda Il gioco giocato Per chi lo gioca Sia creativa Che battle royale De cose da far Ce ne stanno Ci stanno nuovi oggetti creativa Nuovi strumenti Anche per le opzioni Della creativa Così come hanno appena Introdotto questi dinosauri Con nuovi oggetti consumabili E pinnacoli vendenti Che è un luogo imponente Sia per dimensioni Che per qualità del gioco Perché ci andrà al mondo Ci saranno anche Nuovi contenuti da fare Insomma La roba non è poca So soltanto poche le skin Quello è vero Ma ora che di Monkeysmonkeys Qua sotto nei commenti Voglio sapere la vostra Perché dei cose da commentare Ce ne stanno parecchie Dal ritorno dei pinnacoli Fino ai nuovi oggetti di gameplay Fino ai nuovi oggetti Per la creativa Fino alla pochezza delle skin C'è tanta sostanza In questo aggiornamento Non sembra ma c'è E quindi So curioso di sapere la vostra Sapete che E ve leggo molto volentieri Vi ringrazio per tutto quanto L'immenso e infinito Costante supporto Che date ogni giorno al canale E sapete pure Che appresso tantissimo E infatti Dopo dei meritatissimi ringraziamenti Vado a farmi esplodere a pinnacoli Ma prima devo ricomprare Un mouse nuovo Che mi si è rotto Proprio stamattina Mentre stavo facendo La copertina del video Grande Grazie Io ho avuto Io ho avuto la lama Per quello Carate ne do Sono più Sì sono più tutti Finissimo Grazie 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 Dai Io vedo Io vedo la staccionata Ma non c'è Non me la fa sbagliare Manco questa Qualti Ma Non dire scemenze Quanti No Simone è vero Non è vero Qualti È tutto nella tua testa Ah comunque Non ho ancora scoperto quel posto Che carezzo Quanti Smettila di allontanare Le tue scorreggie Che schifo Qua Quanti 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 Quanti